Bentornati su Dynote, oggi voglio proporre un video per quanto riguarda la recensione delle FAQ lasciate dalla Games Workshop in luglio 2022 per quanto riguarda Age of Sigma Dominion 3 edizione per quanto riguarda Nighthound. La prima cosa che vediamo è per quanto riguarda il commentary e riguarda le unità di Furie che hanno l'abilità Sneaky Little Davis e viene detto che possono utilizzarla anche se sono entro 3 pollici da un'unità di Nighthound con la keyword Grimmy Legend che non permetterebbe di ritirare. In ogni caso per quanto riguarda questa abilità vi invito ad andare a vedere il mio video per quanto riguarda le regole dei Nighthound che potete trovare in descrizione. La successiva è narrata per quanto riguarda le Drake Breath Hound con l'abilità Cursale Reality è molto semplice ma anche molto importante perché cambia in una volta per turno di battaglia se il generale ha la keyword Nighthound e lancia un comando. E' importante avere bisogno della keyword Nighthound perché effettivamente si potrebbe avere alleati, si potrebbe avere chi si gioca con altri armati in combinazione e non necessariamente quindi in generale sarà dei Nighthound. Quindi è importante per andare a capire che il Nighthound deve essere la fonte principale quindi è quello il punto di focalizzazione che deve avere questa abilità. Quindi che ci deve essere generale con la keyword Nighthound per usarla quindi è semplicemente un modo per andare a specificare che è così. E poi abbiamo delle correzioni per quanto riguarda gli Endspers specifici per il Battletone dei Nighthound. Ecco che il Sheish Reaper non ha veramente dei cambi, semplicemente funziona come prima, è semplicemente un disfrazzamento in alcuni punti ma è lo stesso. E' molto importante invece per quanto riguarda Volt o Source che vede due cambiamenti ma di cui uno solo veramente importante che è il passaggio da 6 o più a 6 per generare le ferite mortali con questo Endspers. E' importante perché è stato rimosso il più uno dato dal nemico terrorizzato quindi cambia notevolmente la quantità di danni che si può fare, è molto importante in quel senso. Poi abbiamo per quanto riguarda Mortalis Time Nexus che vede un cambio per quanto riguarda il raggio che passa da 12 pollici a 18 pollici. Quindi molto importante e sicuramente da considerare perché cambia notevolmente la portata di questo incantismo che non è affatto male. Ad ogni modo. Da Dino Mode per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video. Oppure se siete interessati a semplicemente assinarmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dino Mode è tutto, alla prossima!